Verrebbe da dire che tutto il mondo è paese ed in effetti stamattina quando siamo arrivati a Monte Cicardo, paesino di 500 anime, sopra Pesaro, poco distante da Sant'Angelo in Lizzola, la strada tutta dissestata e sfaldata nell'asfalto che si inerpica dalla chiusa di Ginestreto, tanto ci ricordava quella che ogni tanto documentiamo per le segnalazioni dei nostri amici fanesi. A chiamarci questa volta il signor Bonazzioli, ora pensionato ma una vita passata nel corpo dei vigili del fuoco, nato e cresciuto qui e caparbiamente rimasto qui, tra il suo paesaggio, ma che non accetta una situazione che da tanto tempo va avanti, il dissesto e l'abbandono delle strade circostanti, strade che lui e i suoi concittadini percorrono ogni giorno. Quando uno cammina nelle strade sembra di camminare in un campo minato, fare la gincana, non so come chiamarlo, io devo guardare dove metto le ruote della macchina o della moto con qualunque mezzo cammino, devo stare attento a cercare di schivare queste buche, veri e propri fossati, che c'è un pericolo veramente, un pericolo per la sicurezza. La casa cantoniera, emblema e dimora di chi si prendeva cura un tempo delle strade e dei fossi, il cantoniere appunto, è una figura ormai rara o per lo più assente, come dimostrano le erbacce vittoriose sulla struttura. Le strade sono abbandonate, nessuno fa la manutenzione, nessuno fa niente, i cantonieri non esistono più, le strade non c'è segnaletica, non c'è né segnaletica né orizzontale né segnaletica che delimiti le carreggiate, i paletti, quindi qui quando è buio oppure quando c'è nebbia non si vede niente, uno non sa dove andare, uno che viene da fuori non sa dove andare, non ci sono indicazioni che indicano dove andare, cosa fare, questo è un momento in cui il territorio è abbandonato. Ma il crucio principale non è tanto il decoro quanto la sicurezza appunto di chi usufruisce della strada. Io quando cammino sulla strada voglio che la strada sia sicura, dopo se le responsabilità sono le mie me le assumo, quindi quando succede un incidente le responsabilità vanno ripartite, quindi se uno qui cade vai a chiedere poi di chi sono le responsabilità, se io cado perché c'è una buca, perché magari c'è della ghiaia o del fango sulla strada, a chi devo chiedere i danni? Per avere il danno, il risarcimento del danno devo fare il ricorso, devo andare dall'avvocato, devo andare dal giudice, non so cosa devo fare, è un calvario, quindi uno rinuncia, è questo che dà fastidio.